Abbiamo appena lasciato Nairobi, in Kenya, e ci stiamo dirigendo verso Arusha, in Tanzania. Da lì inizieremo la nostra visita ai parchi. Ad attenderci troveremo due fuoristrada, due autisti, Didi e Roger, e anche il cuoco, David. Siamo ad Arusha, abbiamo preso possesso delle jeep e ora siamo al mercato, facciamo un po' di spesa, prima di puntare verso il primo parco che visiteremo, il parco del Tarangire. Siamo nel parco del Tarangire, ora i miei commenti non servono più, lascerò parlare le immagini. Grazie a tutti. 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 Ci fermiamo nuovamente per fare la spesa in questo piccolo villaggio, questa volta cercheremo di non dimenticare proprio nulla perché il campeggio verso cui ci stiamo recando è davvero molto essenziale. Siamo in viaggio verso il nostro prossimo campeggio che si trova vicino al lago Eiasi, certo in quanto a spartanità penso sia secondo a pochi, ma noi ci siamo stati bene lo stesso. Siamo sul lago Eiasi, o meglio, siamo sul fondo del cratere che normalmente lo ospita. Per terra si vede questa rete da pesca, probabilmente rimasta qui quando il lago c'era davvero. Sono le sette del mattino, siamo venuti in questo villaggio per assistere a una battuta di caccia, certo di selvaggina non ne abbiamo vista molta, però è stata comunque una cosa interessante. Grazie. 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 Stiamo assistendo alla fusione di un metallo che verrà poi utilizzato per costruire dei monini da vendere ai turisti. Certo il sistema è un po' primordiale, però funziona. Siamo su uno spiazzo che sovrasta il cratere dell'Ongoro-Ongoro. Stiamo piazzando le tende perché questa notte dormiremo qui. Veniamo accolti da una cicogna curiosa e da un gruppo di zebre che invece sembra piuttosto indifferente alla nostra presenza. Questo leone sembra davvero stanco o forse sarà annoiato. Chissà, certo non è che abbia grandi cose da fare. D'altronde a cacciare ci pensano le femmine. Lui sì che ha capito tutto. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. in the jungle, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, 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 don't Cogna non c'è più, forse starà facendo le consegne? Cogna non c'è più, forse starà facendo le consegne. Per me anche il più emozionante tra quelli che abbiamo visitato. Per me anche il più emozionante tra chelli che abbiamo visitato. Per me anche il più emozionante. Per me anche il più emozionante tra chelli che abbiamo visitato. Per me anche il più emozionante tra chelli che abbiamo visitato. Per me anche il più emozionante tra chelli che abbiamo visitato. Dopo aver lasciato il Serengeti lungo la strada ci fermiamo a visitare questo piccolo villaggio. Certo sono molto poveri, però sono anche molto festosi. Per me anche il più emozionante tra chelli che abbiamo visitato. Per me anche il più emozionante tra chelli che abbiamo visitato. Per me anche il più emozionante tra chelli che abbiamo visitato. Siamo in viaggio verso il lago Natron e la natura qui è davvero spietata. All'orizzonte si vedono solo distese di sabbia e pietre. E certo la vita qui non deve essere facile. Assampti. 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 Sanna Asante Sanna Nonostante la zona quasi pre-desertica un po' d'acqua c'è e noi siamo venuti qui apposta per farci un bel bagno rinfrescante. Abbiamo deciso di raggiungere a piedi il lago Natron, una camminata di un paio d'ore certo non proprio riposante, però visto gli incontri lungo il tragitto dobbiamo dire che ne valeva veramente la pena. Sanna Ciao Certo, ciao! Ciao! Ciao!